Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qui in diretta da Civitanova Marche. Adesso siamo qui ad intervistare niente po' di meno che è la presidente del, vuoi dirlo tu? Luxury Adjuni in Club. No, direi vari, io volevo dirlo da parlo. Allora aspetta, aspetta, facciamo una cosa Linda, dammi il tuo microfono per favore. Sì. Dammi il tuo, tieni questo. Perché devo tenere questo? No, io volevo che lo dicessi a Pasch perché mi pare che qualcuno abbia sbagliato di scrivere il nome su Facebook in questi ultimi giorni. Hai scritto il nome di tua gente, del Luxury. Allora sì, io ringrazio tutti quanti i ragazzi del Luxury, così non mi sento. Un attimo, facciamo un cambio, eh? Sì. Cambio di coppia, eccolo qua. Allora. Eccoci qua. Cara Cris, con tante Z. Crizia. Crizia, io ti ho sempre chiamata Cris. Siamo qui presso questo bellissimo raduno, il quale, no, è molto bello. Sicuramente nel pomeriggio verrà anche altra gente, dai, perché insomma sappiamo che è domenica, la gente non si sveglia presto come abbiamo fatto io e Linda. Linda alle 4, io alle 6. Esatto. Per farci 400 km per venire da te, col cuore, eh, siamo venuti, col cuore. Allora, chi c'è vicino a te? C'è il mio segretario, Alessio. Segretario come ti chiami? Giacoponi e Alessio. Ah, ma il segretario personalista. Ah, il segretario personale. Ah, però, cioè qua, c'è vita nuova Marche, i ragazzi ci si trattano bene, era il segretario personale. Pascio, vuoi fare il mio segretario personale? No, io volevo chiedere a te se volevi prestarti e farti da segretaria per me. No, no, mi spiace, io pensavo la stessa cosa di te. Va bene, mi va bene. Ok, facciamo quindi scambio equo, tu segretario e me, io segretario e te. Va bene. Fantastico. Ok. Allora, dai, andiamo avanti, continuiamo. Ragazzi, volete un po' descrivere come è difficile fare un evento? Vogliamo raccontare? Scusa, Linda, devo interromperti. Manuel, Manuel, gentilmente, vieni qui, dai, vieni qua un attimo che ci stiamo facendo la diretta. E tu, qual è il bello della diretta? Linda, cosa dicevi? Dicevi, perdonami. Eh sì, che dobbiamo raccontare un po' che cosa stanno facendo, cosa sta succedendo, perché siamo qua. Perché siamo qua, dai. Linda. Dai, allora noi siamo qui, perché... Alessio, perché siamo qua? Evidentemente per vedere il nostro raduno. Esatto. Allora, ricorda che devo appoggiare la bocca al microfono perché si sente poco. Vai, appoggio la bocca al microfono. Evidentemente perché... per visitare il nostro raduno. Ok. Bene, bene, dai, ci fa piacere. Esatto, esatto. Allora, il vostro raduno, volete raccontare un po'? È organizzato da che club? Da Luxuria Tuning Club. Ok, perfetto. Altre, ricordiamo, Luxuria Tuning Club. Esatto, esatto. Con la finale. Esatto. Però è stato cancellato al volo, dall'iPhone, eh? Vero? Ma no, ma voi dovete sapere che aneddoto di tutta questa storia qua è stato che il nostro buono Apache in un momento di svista ha scritto su Facebook, anziché Luxuria Luxury, che è il nome tra l'altro di un altro club che dopo andremo a conoscere. Esatto, è un po' come mandare la buonanotte alla propria fidanzata. E mandare alla mamma. È un misaggio ufficiale, importantissimo, nato nella mente. Perciò, dai, vogliamo dire qualcosa, Apache? Fai qualche bella domanda. Sì, allora, allora. Chiedi un po'. Ok, ti faccio una bella domanda, che taglia por di reggiseno. La sesta, bene, questa è la bella domanda, domanda di scorta. Allora, ascolta, ascolta, senti qua, senti qua. Quante macchine ci saranno fino adesso, dai? No, adesso una cinquantina. Cinquantina. Prevediamo un centinaio, 150? Speriamo. Sì, dai, arriveranno sicuramente. Sì, dai, che vengono. Anche perché posso farti una domanda. Ho visto quella megacoppa del Best of Show. Esatto. Cioè, se io venissi qua con la 500, non mi starebbe in macchina. No. Come, come, come... Quanto è lunga la coppa? Quanto è alta? Quanto è lunga la coppa? Amore, quanto è lunga la coppa? Un metro e novanta. Wow, un metro e novanta. È più alta di me. Ah, un metro e novanta cinque. È più alta di te? È più alta di me, Apache. Anche di me, io sono un 83, per cui... Cospita, perciò abbiamo una coppa del Best of Show, che è veramente incredibile. Quante coppe ci sono? Oltre 100. Allora, se le coppe dovessero rimanere da parte, cosa facciamo? Le teniamo per il prossimo evento? Ci andiamo a bere questa sera? Ci andiamo a bere questa sera? Sì? Nentre le coppe? Yeah! Ascolta che... Cosa? Su quella del Best of Show. Ascolta, ho visto delle belle macchine, veramente belle, eh? E so che te... Da quanto tempo stai? Ci stai lavorando dietro per organizzare questo evento? Quattro mesi, più o meno. Quattro mesi per organizzare un evento? Diciamo che le difficoltà principali sono i permessi... Il permessi, il comune... Ecco, il comune, forza dell'ordine che salutiamo in amicizia. Il comune, hai avuto un sostegno anche magari economico dal comune oppure no? No, no, questo non l'abbiamo richiesto. Comunque è già bastato lo spazio, il parrucginio, tutte queste cose qui. Ok, ho capito. Ok, ok, bene, bene, perfetto. Hai qualcuno che vuoi salutare? Anzi, io mi alzo qui che prendo il foglio con i nomi. Esatto, sì, dai. Facciamoli leggere alla Linda, dai. No, alla Linda non fa leggere. No, niente, li leggo tu. No, no, fagli leggere alla Crizia, scusami. Crizia, chi vuoi ringraziare? Grazie a te stessa. Brava, Crizia, ringrazati. Oltre ovviamente te stessa, sì. Allora, Crizia, scusa un attimo. Prima di mano questi due bei microfoni. Fa conto che sia di un africano. Vieni qua un attimo. Ok? Oh, apposto. Ok? Allora, chi vuoi salutare? Saluto Marchini Iari, Ceci Manuel, Giacoboni Alessio, che è il segretario. Alessio, lui. Alessio. Canto l'acqua Mattia, Pizzolla Nicola, Barboni Andrea, Antonelli Ciada, Mazzieri Giulia, Giacoboni Jessica, Morresi Pamela e Severini Francesco. Ok, che hanno dato una mano a partecipare, cioè a creare questa manifestazione, vero? Ecco, ecco, hanno dato veramente una mano molto importante, no? Sappiamo, della vita si dice pochi ma buoni, meglio che tanti e coglioni. Allora, questo, no, è proprio così, scusate il termine ma è la verità. Allora, io purtroppo non ho mezzi termini, scusate gli amici a casa. Gli amici a casa. Eh, si può fare un bip poi? No, faremo, non preoccupate. Va bene, fate un bip. Allora, 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 un'altra cosa importante che comunque io ti volevo chiedere è questa. Ok, abbiamo ancora tre minuti. Sì, il pomeriggio, quale sarà il programma del pomeriggio? Allora, ci saranno molti giochi come il lancio del sub, il lancio del presidente in piscina, bodypainting con Abbas. Sappiamo che c'è anche sexy car wash? Sì, c'è un sexy car wash ma all'orario ancora, adesso vediamo, dopo le due comunque. Ok. Sono le 14, 15, 16. 14, 15, 16, 17, 18, poi 20, andiamo a casa. Appena arrivano. Appena arrivano. Appena vengono, allora, appena vengono. Appena vengono. Come sono queste due ragazze che fanno sexy car wash? Sono fiche. Sono fiche, eh? La parola fiche non si poteva dire, però noi l'abbiamo detto lo stesso. Faremo un altro bip, non ti preoccupare, Appas. Va bene, dai, insomma. Ok, dai, vogliamo dire ancora due cose veloci? Dai, intervista a Alessio, poveretto. Alessio, vuoi dire ancora qualcosa della giornata di oggi? Abbiamo ancora pochi minuti, dopo dobbiamo dare linea alla pubblicità. No, speriamo solo che vengano altre persone perché è un raduno abbastanza interessante. Esatto, esatto, è un grande raduno, ci sono un sacco di manifestazioni tutte quante assieme, c'è la Your Tuning, perciò quello che posso dire è se siete ancora a casa, ragazzi, venite. Esatto, venite, 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 fatevi anche voi 400 chilometri, venite qua. Allora, caro, vieni dietro. Non so se si vede. Non lo so, no, non vuole venire. Non vuole venire, bene. Bene, io voglio venire, se qualcuna vuole passare di qua, che non ci sono doppi sensi, eh? Ah, va, smettila. Ok, allora, ragazzi, chiudiamo qua, chiudiamo qua, Linda, cosa dici? Sì, esatto. Meglio, eh? Ok, allora, ci sentiamo, ci vediamo dopo? Dai, ci vediamo tra un pochino, ragazzi, tra poco, grazie. Ok, ricordiamo www.yourtuning.com www.yourtuning.com